. Gedi Gruppo Editoriale, editore del Quotidiano La Repubblica, comunica che è stato approvato il progetto di riforma presentato dal direttore Mario Calabresi per il rinnovamento di Repubblica nella sua edizione cartacea e digitale. . Entro fine anno il Quotidiano si presenterà in una veste totalmente nuova, per offrire con sempre maggiore efficacia al suo pubblico nuove chiavi di lettura e di approfondimento e si arricchirà, nella sua declinazione digitale, di una nuova applicazione con contenuti originali a pagamento. . In questo contesto, Tommaso Cerno assumerà la condirezione di Repubblica a far data dal prossimo 25 di ottobre. . 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